Energia, geotermia, masso delle fanciulle comune di Pomarance, provincia di Pisa. Abbiamo presentato un atto per chiedere lo stop alle trivellazioni in quell'area di pregio affinché venga fatto al più presto quell'allegato delle aree non indone dove si dice che in questa zona non si può fare né perlustrazione né nuovi impianti geotermici. È un allegato al piano ambientale, energetico e regionale presente in tutte le altre fonti rinnovabili quali idroelettrico, fotovoltaico e eolico, manca per la geotermia. Chiedendolo stop alle trivellazioni per il masso delle fanciulle, d'altro canto chiediamo che venga fatto al più presto l'allegato delle aree non indone alla perlustrazione e installazione di impianti geotermici. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS